Ciao, l'anno è realizzato nei migliori dei modi, dal 6 al 9 gennaio vado ad Amsterdam. Ma quanto calo è bella Amsterdam, una delle città più belle che abbia mai visitato in vita mia. Mi ha letteralmente rapito il cuore, mi sono proprio divertito in queste regioni ad Amsterdam, nonostante il freddo pungente. Ho subito pensato che quest'anno voglio spaccare, voglio iniziare a viaggiare, voglio fare almeno un viaggio al mese. E infatti il mese dopo, a febbraio, vado dove? A Bruxelles, capitale del Belgio ed Europa. Lì passo dei giorni, mi immergo nella città belga e mi diverto proprio. Faccio anche lì tantissime foto. E faccio pure un vlog, il mio primo vlog. Viaggio a Bruxelles l'ho intitolato. Non l'ho mai pubblicato perché facevo letteralmente schifo. Allora mi viene l'idea di iniziare a mettere dei video su YouTube, raccontare la mia vita a Londra e i miei viaggi che farò. Me li ho programmati tutti. E poi invece che succede? Buona volta nel mio canale. Allora oggi sono libero e mercoledì in cielo e qui gioco come sembra Londra. E ho deciso di andare a Camp Nou per assaggiare un po' di caloretto sporco. Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo video. Allora, nel video precedente io... Non vuol dire che non ho letto, non mi sono informato. E nel frattempo tante compagnie hanno un senso civico che secondo me è migliore del no. Non ce l'ho fatta. Finalmente sono tornato a casa, come potete vedere. Sono nella mia bella cucina qua. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Allora, se vi ricordate... È un virus che sta almeno cambiando la nostra vita. Beccellini! Ciao! Sara è una blogger e non fa la lingua, è stata della scusa per imparare di sempre. C'è Anna. Ciao, ciao a tutti. C'è ancora quella... quindi un video da Bohem. Allora, Matteo è italiano, eh, che vale la pena visitare. Ma ormai le grandi compagnie lavorano su... Oppure come sempre faccio le cose un po' improvvisanti. Buon Natale.